Il giorno del taglio del nastro è finalmente arrivato. Sabato 21 dicembre la rinnovata ski area delle Melette di Gallio aprirà ufficialmente i battenti, accendendo per la prima volta i motori della nuova seggiovia a sei posti. Il taglio del nastro è in programma alle 11.30, quindi gli ospiti della cerimonia di apertura potranno provare la seggiovia salendo fino alla baita relax e gourmet a 1730 metri. Il pubblico e gli appassionati di sport potranno riscoprire quello che da sempre ha ritenuto il salotto buono dello sci altopianese già dalla mattinata di domenica 22 dicembre.